Buongiorno, sono Alberto Faraboschi della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia e siamo oggi qua in biblioteca per inaugurare un appuntamento del nostro calendario dantesco. La mostra intitolata Dante Alighieri, 700 e non li dimostra, Dante e la commedia nella raccolta della Biblioteca Panizzi. È un evento che si inserisce nell'ambito del calendario dantesco promosso dal Comune di Reggio Emilia insieme ad una serie di istituzioni e associazioni del Comune di Reggio Emilia che nel corso dei 700 anni della morte di Dante Alighieri hanno realizzato una serie di eventi e di iniziative sul territorio reggiano che si svilupperanno fino alla fine di quest'anno. Molto importante per realizzare questo calendario dantesco è stata la collaborazione di enti e associazioni del territorio e quindi desidero in particolare ringraziare tutti gli enti e associazioni che hanno aderito a questa iniziativa e proprio il momento fulcro e centrale di questa programmazione è proprio la mostra che inauguriamo oggi in Biblioteca Panizzi. È una mostra che consente di far conoscere e valorizzare l'opera di Dante Alighieri attraverso il patrimonio librario, documentario e iconografico conservato presso la nostra biblioteca. Questa mostra è curata da Roberto Marcuccio e Chiara Panizzi della Biblioteca Panizzi e che naturalmente desidero di ringraziare e che in qualche modo ci consente di far conoscere un Dante anche inedito e meno conosciuto. Certamente questa mostra ha la possibilità di far dialogare infatti l'apparato iconografico con la parte più documentale e libraria. In particolare devo ricordare che è una mostra che si snoda attraverso cinque sezioni e che consentono di far conoscere una parte del ricchissimo patrimonio documentario conservato in biblioteca e che si è sedimontato nel corso del tempo e che ancora una volta conferma la straordinaria ricchezza, non solo locale, di questo materiale. In particolare ricordo che abbiamo alcuni materiali particolarmente preziosi e rari come una prima edizione del Convivio, un incunabolo preziosissimo, oltre a altri materiali di grandi interessi che i curatori della mostra faranno conoscere. Desidero solo ricordare che questa iniziativa in qualche modo ci fa conoscere da una parte l'importanza di Dante Alighieri per la cultura e l'identità italiana. In particolare viene visualizzato anche in modo iconografico proprio come si è costruita l'immagine di Dante Alighieri diventando con lo sguardo severo un icone dell'identità italiana in particolare in alcuni momenti fondamentali della storia nazionale come per esempio durante l'inizio del Novecento nella stagione del nazionalismo. Al tempo stesso ci fa conoscere anche come la fortuna di Dante Alighieri si sia sviluppata nel corso del tempo, in momenti diversi, con alterne anche fortune e poi anche, ed è forse l'aspetto anche particolarmente interessante, l'aspetto della fortuna locale, cioè reggiana, di Dante Alighieri. In particolare abbiamo della ricca documentazione che a partire soprattutto dall'Ottocento fino ai giorni nostri ci fa conoscere come la figura di Dante Alighieri sia stata conosciuta, studiata, valorizzata e approfondita. Quindi io non voglio sottrare altro tempo, in particolare ai curatori, desidero quindi ringraziare anzitutto tutte gli enti e le associazioni che hanno partecipato con il Comune di Reggio Emilia per realizzare questo calendario dantesco e in particolare la società Dante Alighieri attraverso il Comitato di Reggio Emilia nella persona della professoressa Giovanna Iori che adesso prenderà la parola dopo di me e che ha fattivamente contribuito a questo progetto. E poi naturalmente tutto il personale della biblioteca a partire dai curatori, Roberto Marcuccio e Chiara Panizzi che sono i due curatori di questa mostra. Ora cedo la parola alla professoressa Giovanna Iori della società Dante Alighieri di Reggio Emilia. Buongiorno, grazie per l'invito a inaugurare questa bellissima mostra e volevo dire che io parlo innanzitutto a nome mio personale ma anche di tutto il mio comitato della Dante perché queste celebrazioni dantesche hanno dimostrato che Dante è veramente una figura identitaria rappresentativa della nostra nazione non soltanto però in Italia ma anche all'estero e la società Dante Alighieri ha portato la figura di Dante in più di 400 comitati sparsi per tutto il mondo per cui dappertutto in questi mesi stanno leggendo e studiando Dante. Io sono particolarmente contenta anche del fatto che Dante abbia unito in questo progetto presentato dal Comune le varie associazioni culturali reggiane e le hanno fatte diventare una sorta di famiglia culturale. Mi pare che non fosse così evidente prima e perciò noi siamo tutti orgogliosi non solo la Dante ma credo anche tutte le altre associazioni anche quelli cui i presidenti non sono presenti perché non riuscivano a stare in questa sala numericamente perché è stato veramente con il coinvolgimento di tutti che si è riusciti a realizzare questo e infine concludo dicendo che è un grande orgoglio per la città possedere un patrimonio così importante, così di pregio come quello che è stato selezionato dall'archivio della Biblioteca Panizzi credo che sia uno dei più importanti nella documentazione che è sparsa in molte città d'Italia e qualcosa c'è anche fuori Italia. Di conseguenza io lascerei la parola ai due primi attori di questa mostra cioè i due curatori nelle persone di Roberto Marcuccio e Chiara Panizzi. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti la mostra che oggi inauguriamo parte da una considerazione che è quella che l'interrogarsi sul nostro destino dopo la morte è un interrogativo che è vecchio come l'umanità e su questa domanda si innesta l'esperienza così particolare singolare e grandissima di Dante Alighieri Dante Alighieri, noi cerchiamo di dimostrarlo anche attraverso i materiali della mostra ha attinto a numerose fonti più antiche fonti classiche, fonti medievali, bibliche, fonti arabe e ha però rielaborato tutto questo in modo molto personale perché la sua era una personalità estremamente grande e singolare che ha sofferto e vissuto le vicende storiche della sua età quindi il viaggio della commedia è un viaggio spirituale, ultraterreno ma è anche un viaggio all'interno di tutte le contraddizioni di ogni creatura umana e Dante è riuscito a rappresentarlo nei suoi versi questa mostra che appunto si compone come ha detto il collega Alberto Ferraboschi in varie sezioni intende prima di tutto proporre qualche risposta a tre domande principali cioè la prima è chi era Dante Alighieri come sono giunte fino a noi le notizie sulla sua vita e come noi l'abbiamo immaginato e raffigurato per rispondere a questa prima domanda abbiamo esposto per esempio nella prima vetrina la raccolta delle più antiche vite di Dante cioè quelle di Giovanni Villani, quelle di Giovanni Boccaccio quelle di Giannozzo Manetti e di Leonardo Bruni cioè gli umanisti, gli scrittori del 300 e del 400 che essendo più vicini nel tempo hanno cercato di raccogliere le notizie esistenti ancora su questo grande poeta e poi abbiamo mostrato anche la ricerca della vita di Dante per dare un'identità all'Italia nel 1865 quando si celebrava il sesto centenario della nascita e quando sono state in qualche modo riscoperte e valorizzate la casa della famiglia di Dante Alighieri a Firenze e la sua tomba che come tutti sanno è a Ravenna abbiamo cercato di costruire questo percorso proprio per far capire come in realtà sono poche le notizie storiche documentate sulla vita di Dante ma come su queste poche notizie il nostro paese perché come è stato detto prima Dante è in qualche modo il simbolo non solo della nostra lingua ma della nostra letteratura e della nostra cultura come è stato rappresentato la seconda domanda invece è come attraverso il libro il libro manoscritto e il libro a stampa è stato rappresentato il grandissimo poema cioè l'opera più grande che Dante ha scritto la Divina Commedia e abbiamo elaborato un lungo percorso che partendo da un facsimile di un manoscritto del Trecento e poi da edizioni dal Cinquecento al Novecento mostra appunto come si sono evolute la storia del rapporto testo-immagine nella Divina Commedia e le diverse interpretazioni e questa è appunto la terza domanda a cui vorremmo rispondere cioè come coloro che sono venuti dopo di lui hanno letto Dante, l'hanno interpretato, l'hanno giudicato a partire dal Trecento, quindi dal suo stesso secolo fino ad oggi e qui abbiamo cercato di mettere insieme alcuni esempi naturalmente senza nessuna aspirazione di completezza di interpreti, commentatori, studiosi di Dante il primo importante conosciuto è stato Giovanni Boccaccio che già ricordavo prima che è stato il primo a leggere pubblicamente la Divina Commedia a Firenze nel 1373 e poi fino a per esempio Ugo Foscolo, Nicola Tommaseo e tanti altri grandi scrittori e critici che hanno giudicato l'opera di Dante e al tempo stesso gli artisti che hanno cercato di rappresentare iconograficamente le immagini, le scene, il racconto della commedia questa parte è quella che ha curato la mia collega Chiara Panizzi con la quale ho curato questa mostra quindi le cedo la parola ringrazio tutti e ringrazio anch'io tutti i colleghi della biblioteca e tutte le aziende esterne che hanno collaborato alla buona riuscita alla realizzazione di questa mostra grazie Buongiorno a tutti io sono Chiara Panizzi responsabile del gabinetto delle stampe della biblioteca Panizzi la ricca documentazione di incisioni e disegni presenti nelle raccolti iconografiche della nostra biblioteca prima fra tutte la raccolta da voli che conta più di 40.000 incisioni antiche che sono state tutte già catalogate pubblicate sul nostro catalogo online ci ha permesso di attingere a piene mani per cercare di trovare soggetti danteschi che potessero aiutare nella nostra mostra a far dialogare documenti letterari manoscritti e libri a stampa con immagini le immagini sono state sostanzialmente raccolte in due sezioni importanti una dedicata al ritratto di Dante e una dedicata alle immagini tratte dalla Divina Commedia la prima sezione dedicata al ritratto di Dante vuole un po' indagare l'origine e la fortuna che ha avuto quell'idea diciamo che abbiamo di Dante nel nostro immaginario collettivo dove è nato questo viso che tutti inequivocabilmente associamo a Dante Alighieri abbiamo quindi scoperto che in seguito alla produzione dei primi modelli trecenteschi e tutti fiorentini che ritraevano un Dante giovane dai tratti delicati il cosiddetto modello giovanile prevale ad un certo punto il modello severo che ha avuto il suo apice in quel meraviglioso profilo disegnato dipinto da Sandro Botticelli nel 1495 con tratti più marcati il naso aquilino il mento sporgente questo sguardo corrucciato un po' severo l'alloro ecco che è diventata l'icona ecco che ci permette di identificare senza dubbio Dante Alighieri che cosa è successo tra questo modello giovanile trecentesco e questo modello severo che si afferma già a partire dai primi del Quattrocento ciò che ha cambiato le carte in tavola non è un riferimento pittorico artistico ma è più che altro un riferimento letterario si tratta di quel trattato su il laudo di Dante il trattatello in laudo di Dante che Giovanni Boccaccio scrive in base alle informazioni orali che ha avuto da chi aveva conosciuto Dante Alighieri ancora in vita a Ravenna quindi Dante era già maturo e i tratti che lui descrive i tratti fisici proprio che lui descrive di Dante sono quelli che poi la cultura artistica ha accolto e che hanno soppiantato il modello giovanile questo ha influenzato tutta la produzione dei ritratti danteschi dal quattrocento in poi a partire da Andrè del Castagno Domenico di Michelino per passare da Raffaello nel Parnaso e anche nella disputa del Sacramento Vasari Bronzino e via via fino alle soglie della contemporaneità relativamente alla contemporaneità ci siamo concentrati sulla esposizione di incisioni realizzati soprattutto in occasione del famoso sesto centenario della morte del poeta 1921 che ha forse nella silografia realizzata dall'olfo de Carolis il suo esempio più bello la seconda sezione invece è dedicata alle immagini tratte dalla Divina Commedia abbiamo detto immagini non a caso non si tratta di illustrazioni l'illustrazione è un genere che nasce all'interno del libro a corredo visivo di un testo scritto col quale in genere instaura un rapporto di sudditanza di Dascalica le illustrazioni sono strettamente legate al testo al quale si accompagnano a volte anche con esiti meravigliosi come ha avuto modo il dottor Marcuccio di rendere visibile nelle teche che ha realizzato dedicate alle edizioni figurate della Divina Commedia a parete invece noi nella parte iconografica abbiamo voluto fare percorrere una strada diversa e quindi ci siamo ispirati a quei dipinti che sono stati realizzati tra la fine del settecento e per tutto l'ottocento poi tradotti appunto in incisione che hanno come dire preso a prestito decontestualizzato certi temi personaggi famosi della Divina Commedia e hanno dato loro una vita propria questi temi che sono stati desunti dalla Divina Commedia sono per lo più le storie di Paolo Francesca la storia del contugolino Pia De Tolomei i quali però appunto decontestualizzati dal luogo poetico dove si trovavano vengono come rivisitati reinterpretati soprattutto dai pittori di epoca romantica che li vedono attraverso gli occhiali dei contesti culturali in cui vivono della loro epoca tanto che facendo soprattutto perno sul gioco delle emozioni e delle passioni che si sviluppano in queste tragiche vicende suscitano la pietà dello spettatore davanti al quale queste figure che Dante aveva giudicato colpevoli diventano invece delle vittime e quindi certi momenti della storia hanno assunto queste vicende come fossero quasi dei manifesti di lotta per rivendicazioni di tipo politico culturale che non appartenevano a questi stessi episodi se letti all'interno del contesto dantesco del poema in ultima analisi una grande incisione grande anche per dimensioni incisa da Jacques Allot nel 1612 tratta da un disegno di Bernardino Poccetti dedicata a Cosimo II de' Medici granduca di Toscana nella quale l'autore dichiara di essersi ispirato a Dante in realtà nella raffigurazione di questo che è la raffigurazione dell'inferno in realtà questo tipo di raffigurazione non è esattamente corrispondente alla concezione dantesca in quanto l'inferno dantesco è una cavità questa si presenta come una scala come una montagna con più gradini ma l'autore comunque dichiara di essersi ispirato a Dante nella definizione delle pene capitali nella descrizione dei diavoli di Lucifero eccetera questo per dire che ancora nel seicento un artista che volesse raffigurare l'inferno non poteva prescindere soprattutto in ambito fiorentino dalla concezione dantesca vi invitiamo ovviamente tutti a visitare la mostra grazie grazie